Bentornati su No Mamamazzo e bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica D-Landog, D-Landog Color Fest. Oggi parliamo di D-Landog Color Fest numero 48 dal titolo Il Risveglio. Un'unica storia inedita e completa scritta da Purretto e Mericone con i disegni alla copertina di Francesco Ripoli e la colorazione di Algozzino. Ne parliamo insieme dopo la sigla. D-Landog Color Fest numero 48, Il Risveglio. È da parecchi giorni in realtà che io ho letto questa storia. Non è una novità che io ultimamente sono un po' in ritardo sulle uscite. È dato sia dalla mia mancanza di tempo ma soprattutto anche dal fatto che inizio a sentire che se leggo di corso una storia per fare il video non mi godo più la storia. Di conseguenza cos'è più importante quando non si fa questo mestiere per lavoro ma si fa per passione? Cos'è più importante? Divulgare di corsa quello che si è appena letto per poi magari dimenticarselo qualche giorno dopo? O godersi il viaggio della lettura e parlarne con calma? Ma con le persone, le meno persone che vedranno il video sto scegliendo la seconda strada per vedere se mi torna quella genuina voglia di leggere con passione i fumetti. Quelli da Edicola, in questo caso D-Landog che esce ogni mese con la serie regolare. D-Landog Color Fest esce ogni trimestre quindi lo leggo con molto più piacere. E l'ho detto anche sotto commenti di altri video, sotto al commento di Luca DJ. Io ho scoperto D-Landog, ho riscoperto D-Landog nel 2016 per il suo trentesimo anniversario grazie anche al Color Fest. E dal Color Fest sono rientrato nella collana principale. Quindi il Color Fest sarà sempre la mia testata preferita. A maggior ragione quando non ci sono tre piccole storie ma c'è una storia inedita completa. Perché fondamentalmente è come avere una storia della serie regolare ma colorata. Con l'aggiunta della regia, del colore, della sperimentazione. Ed è una cosa che io che vengo dai fumetti americani trovo particolarmente intrigante. Ma c'è un'altra particolare ragione per cui questo specifico numero del Color Fest non l'ho trattato subito in un video ma ho voluto aspettare. Perché o facevo una reazione, una recensione a caldo magari non capendo completamente bene quello che avevo letto. Oppure mi lasciavo qualche giorno per assorbire la storia e diciamo parlarne con più calma. Anche se devo dire che in questi giorni non mi hanno chiarito perfettamente le idee. Insomma fondamentalmente questo numero di Dylan Dogga non ero sicuro di averlo completamente compreso. Forse anche perché tratta di un tema o di diversi temi di cui io ho percepito solo una piccola parte che fortunatamente non mi sono facilmente familiari. Fortunatamente. E quindi magari si comprende meno. Ma per quel poco che ho compreso io, sperando che non sia una macchia di Rorkshark, questo Dylan Dogga, dal titolo appunto Il Risveglio, parla di una storia, di una relazione che non fa assolutamente bene a entrambe le persone. pare che lo stesso Dylan Dogga faccia parte appunto di questo sogno, di questo sogno che pare stia facendo prima Heather, la ragazza, ma pare che anche Dylan ne sia coinvolto a tal punto da essere lui stesso parte del sogno. Lui stesso non si può risvegliare da questo sogno. È il sogno di Heather, forse è il sogno di Dylan, è il sogno di entrambi, perché viene detto anche durante il numero che appunto quando due persone sono molto vicine si uniscono, no? È come se le loro anime diventassero una. È un po' per spiegare che stanno entrambi sognando la stessa cosa. Ma stanno sognando fondamentalmente tutti i traumi che bloccano la psiche di Heather e che hanno portato poi Heather a compiere quello che secondo me è a tutti gli effetti un insano gesto. C'è un piccolo parallelismo tra Dylan che si getta dalla rupe perché ha capito che è intrappolato in un sogno e quindi nella più disperata della situazione vuole gettarsi da questo dirupo per capire, per provare, per avere una prova ancora più tangibile che è un sogno, quindi che non può morire e che non può farsi male. Il parallelismo tra il gettarsi dal dirupo di Dylan e il gettarsi dal dirupo di Heather che invece credo abbia tutto un altro significato e che può essere assolutamente legato a tutti i traumi che Heather non è riuscita a superare. Tutti i traumi che l'hanno inseguita, tutti i traumi che l'hanno trovata anche nel suo posto sicuro che era quest'isola e che appunto l'hanno portata a fare quello che a tutti gli effetti è un insano gesto. È una storia dalle forti tematiche psicologiche che però è trattata anche con il metodo del flashback da interrogatorio. Mi fa ricordare particolarmente un episodio molto riuscito della serie animata Batman The Animated Series dove appunto Point of View, dove ogni testimone al commissariato dice la sua su quello che è successo in una tragica notte dove era coinvolto Batman. Qui appunto vediamo la testimonianza di Dylan che è interrogato dai poliziotti su quello che è successo quella notte con Heather, che ha portato appunto Heather a morire, a essere ritrovata morta dalla polizia. La cosa particolarmente triste, particolarmente reale che si può dedurre alla fine di questo numero è che anche Dylan stesso, che in questo numero rappresenta il fidanzato, cioè non un tizio che sta frequentando da un paio di settimane, rappresenta una persona stabile nella vita di Heather, una persona rassicurante, un compagno, un compagno anche per la vita, che sta vicino a Heather nonostante tutti i suoi traumi o anche che cerca di aiutarla a uscire da questo suo percorso. Anche Dylan stesso alla fine viene rappresentato con lo stesso aspetto di questi altri, mi sembra di definirli vampiri, emozionali, hanno un nome specifico, non sono andato a cercarlo perché francamente non è importante capire una storia parola per parola, ma è importante capire un attimino quello che ti trasmette, capire il significato. E anche Dylan alla fine viene raffigurato nel taccuino di Heather, quindi da Heather stessa, come uno di questi mostri che non stanno aiutando davvero Heather, ma stanno contribuendo a farla stare male. Questo perché purtroppo quando una persona è molto ferita, è molto traumatizzata, è probabile che anche la persona che gli sta vicino, che magari cerca di aiutarla, per qualche ragione anche involontaria, contribuisce a far star male la persona malata. Perché fondamentalmente di malattia si parla, di una malattia psicologica. E questo è stato molto forte, l'ultima pagina è stata davvero molto forte da assorbire. E' anche un altro motivo per cui non ho voluto parlarne subito, perché ho detto, magari non l'ho capito io, magari parla di altro, magari sto solo vedendo una macchia di Rorschach in questo fumetto. però più passano i giorni e più sono sicuro che, quantomeno tra i vari significati, tra i vari messaggi che hanno voluto dare Purretto e Mericone, si sia parlato anche di questo. Anche di una storia che probabilmente va un po' in loop, ed è per quello che non sta aiutando assolutamente la persona di Heather. A livello grafico, mi sarebbe piaciuto tantissimo, ma so che il Colorfest non esce in contemporanea quando si vuole con un determinato numero di Dylan Dogg, però, dato che questa storia ha, in un certo senso, dei glitch, perché Dylan possa comprendere di essere in un sogno, come appunto le sei dita della mano della sciurotta di paese, o altre cose che Dylan descrive, sarebbe stato fichissimo se fosse uscita insieme a Hazel la Morta, e noi avessimo praticamente fatto questo viaggio itinerante in cui avremmo trovato i glitch sia di Hazel la Morta, sia di Il Risveglio. Sarebbe stato molto fico, anche se qua ovviamente li spiega Dylan, però sarebbe stato molto carino, sarebbe stato un po' una connessione tra i due numeri. Nulla, appunto, io questo numero temevo di non averlo compreso appieno, ma, e per farlo ho visto un altro paio di video di colleghi su internet e mi sono accorto che appunto uno non sono l'unico, uno c'è chi lo ha compreso meno di me, e quindi ho detto, va bene, pur non avendo pienamente chiara la situazione, vi dico le mie impressioni, vi dico quello che ha trasmesso a me, poi magari a voi trasmette altre cose, perché anche questo è il bello della lettura, anche questo è il bello del fumetto, non deve necessariamente parlare a tutti della stessa cosa. Ci sono le storie fatte in questo modo, si chiamano storie chiuse, dove ogni lettore ha tutti gli elementi necessari per comprendere la storia, la storia ti è spiattellata, o subito, o nell'arco delle 96 pagine, e il lettore sa esattamente quello di cui parla la storia, ci sono altri tipi di storie, che si chiamano storie aperte, dove il lettore, quando chiude l'ultima pagina, è lasciato con un senso un po' di smarrimento, con un senso di vuoto, questa cosa non è cattiva scrittura, anzi, è più difficile, è voluta questa cosa, ed è appunto abbastanza comune, è uno dei tratti tipici, anzi, di Dilan Dogg, se dite che questa storia, che è una storia aperta, non è Dilan Dogg, ma quali storie di Dilan Dogg, dei primi numeri, dei primi 50 numeri, non avete letto, per non sapere, che invece proprio Dilan Dogg parla in questo modo, nelle sue storie più iconiche, cioè fondamentalmente, tutte le storie oniriche, che ci sono nei primi numeri di Dilan Dogg, dopo mezzanotte, vabbè, lasciando perdere i conigli rosa uccidono, che è surreale, la stessa, la stessa Morgana, il numero 25, è assolutamente onirico come numero, che cos'ha di diverso? Ovvio, ci sono dei livelli in più, perché sono passati 35 anni nel frattempo, ma è sempre questo il tipo di storia, sono storie aperte, che ti lasciano pensare, che ti lasciano dei dubbi, che non ti danno tutta la verità in mano, ci sono anche quelle storie di Dilan, ma fondamentalmente, le migliori, secondo me, sono queste, questo è Dilan Dogg, se per voi questo non è Dilan Dogg, perché non lo avete capito, e siete arrabbiati, perché non avete capito Dilan Dogg, è un po' strano che vi piaccia Dilan Dogg, non lo so, Dilan Dogg è così, da sempre, non lo so, questa cosa mi lascia perplesso, mi lascia molto perplesso, perplesso e senza camicia, l'hanno già messa altri, per parlare di questo video, non sto a indossarla anche io, non la trovavo nell'armadio, però c'è da dire una cosa, e qui mi aggancio appunto a, diciamo, la mentela, o i complimenti di altri, sui disegni, sui colori, anche io ho apprezzato particolarmente i colori, di questa tavola, i colori pastello, danno ancora più l'idea, di stare a guardare un sogno, e per quanto condivido il fatto che, i primi numeri del Color Fest, così come i colori della paura, che era la ristampa della Gazzetta dello Sport, o del Corriere della Sera, che dir si voglia, erano su carta lucida, e io li adoro, li adoravo, e a un certo punto, si è smesso di utilizzare la carta lucida, perché costava di più, parliamoci chiaro, e si è passati alla carta opaca, è un dispiacere, è vero, è un dispiacere, vedere certe storie, su carta opaca, quando potrebbe esserci stata la carta lucida, però ragazzi, non mi sembra assolutamente il caso di questo numero, io questo numero credo che su carta lucida l'avrei apprezzato molto meno, il fatto proprio stesso che questa carta sia porosa, che assorba i colori, che ricordi un po' anche la carta del taccuino di Eder, secondo me è perfetta, cioè i colori pastello su una carta lucida, renderebbero la storia più finta, più patinata, il fatto che ci sia una carta dove obiettivamente tu puoi colorare a pastelli, la rende più vera, è come se ogni singolo numero sia stato colorato in persona dallo stesso autore, e quindi so che non è una scelta, ovviamente è una botta di culo, perché è una vita che si sta usando questa carta molto più economica, ma non ci troverei qui una lamentela, magari in altri numeri sì, assolutamente, però in questo numero in particolare, non l'ho vista assolutamente come una limitazione, anzi l'ho vista come un'opportunità per veicolare meglio il tipo di colore. Chiusa parentesi, scherzi a parte, dissing a parte, che non sono solito fare queste cose, ne voglio iniziare adesso a farlo, però mi piaceva un attimino anche dire la mia. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero, scrivetemi qua sotto voi cosa avete tratto da questo numero, perché appunto, come ho detto, io ho capito questa cosa qui, voi magari ne avete capito un'altra, che magari parla di voi, magari prende dalla vostra anima, scrivetemelo qua sotto se vi va, non vi preoccupate se non vi sembra di averlo capito tutto, l'importante è che vi abbia smosso qualcosa, scrivetemi qua sotto cosa vi ha smosso, se vi ha mosso l'intestino, scrivetelo lo stesso, basta che siate educati, che non siate proprio volgari, però ragazzi davvero, se vi ha dato qualcosa di bello, se vi ha dato un'emozione, anche un'emozione brutta, il compito è stato portato a buon fine, scrivetemelo qua sotto, e ne discutiamo, ne discutiamo oppure no, nel senso ci sono cose che non vanno discusse, se io a volte vi metto cuori senza rispondervi, è perché non ho altro da aggiungere, e qua è lo stesso discorso, però il fatto stesso che generi domande, anziché dare risposte, è un esperimento riuscito, per me è promosso, assolutamente. Noi ci vediamo nel prossimo video, che sarà, spero questa settimana, o al più tardi la prossima, e sicuramente sarà tutto bugs, perché devo recuperare Samuel Stern, e Kali A16, quindi alla prossima.